Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di Claudio Oggi andiamo a parlare di lui signori, il Google Nest Hub 2 Qui con me il signor Giorgio, che ringrazio per esserci sempre Ma ci mancherebbe, buonasera a tutti, ciao Claudio e ciao amici del canale Allora ragazzi, io mi sono organizzato con la nuova vista dall'alto Il tappetino l'avete visto, unboxato, comunque ve lo lascio qui sotto in descrizione E oggi andiamo a parlare appunto del Nest Hub Io direi di spostarci un attimino sul sito web Essendo che questo non vuole essere un unboxing ragazzi Perché io già ce l'ho dal periodo natalizio E ve ne volevo parlare appunto Come vedete ha il costo attualmente in sconto di 80 euro Nella fattispecie costa 100 euro Questo è il Nest Hub di seconda generazione Io l'ho acquistato presso 1 euro a 50 euro Prezzo eccezionale Ma cosa comprende questo Nest Hub di seconda generazione? Beh, oltre il display di 7 pollici Che vi faccio rivedere da questa inquadratura Dispone appunto di un altoparlante full range Da abbinare ai tre microfoni presenti sul prodotto Che devo dire funzionano abbondantemente bene Dopodiché ha il sensore per la luminosità Equalizzatore ambientale e la temperatura Il jack di alimentazione come vedete qui sotto Dietro praticamente alla cassa vera e propria E la cassa tra le altre cose Sì, è un bel prodottino Vi faccio vedere anche il sotto che è gommato E poi abbiamo appunto l'alimentatore incluso in confezione Di cui vedete solo il filo Ma è un tondino con il filo già incluso Abbondantemente lungo Poi dispone del wifi ovviamente Connettività bluetooth che lo rende anche una cassa bluetooth Quindi possiamo collegarci e trasmettere musica sul nostro dispositivo Anche una chiamata Perché comunque possiamo usarlo a modi viva voce in casa E in più integra anche la funzione croncast Quindi ora poi vi farò vedere che possiamo praticamente trasmettere attraverso il computer Molto molto comodo Poi vabbè, processore CPU ARM con motore hardware ML Sostenibilità al 54% in plastica riciclata Lingue supportate, vabbè Non c'è bisogno di dirlo E poi ragazzi Vi faccio vedere anche una piccola chicca in arrivo Che mi evidenziava il signor Giorgio Ovvero la possibilità O meglio L'arrivo Di BARD Su questi dispositivi Nella fattispecie Nell'assistente vocale Bellissimo Assistente con Bardo La traduzione divertente Sì sì Bardo Qua Bardo Vabbè un salutone a tutti Bardo Che ci seguono Comunque ragazzi Questa è l'evoluzione Dell'intelligenza artificiale Che arriverà appunto Sia sui nostri smartphone Che su questi dispositivi Domestici Vi lascio l'articolo in descrizione Dico Era un semplice accenno Per farvi vedere il tutto Però io direi Di andarci a Spipolare Lui Io prendo i termini ogni tanto Da altri colleghi Allora ragazzi Oltre a vedere Vabbè il meteo Che in questo momento È 17 gradi Sereno Abbiamo diverse possibilità Eh vabbè Beato me Con uno swipe In alto Abbiamo la luminosità Che in questo momento È messa a 2 Perché comunque Conviene Per questa inquadratura Toccando il sole Andrà in automatico Oppure Possiamo deciderla noi Fino a un grado Praticamente Di 10 Come vedete così Praticamente diventa tutto scuro Perché la webcam Cerca di compensare 2 È ottimale Come vista Poi Sempre in questa tendina Abbiamo la gestione Del volume Che avviene O touch O qua dietro Dal bilanciere Come potete vedere Che comunque Posso anche dirgli Ehi Google Metti il volume 6 Aspettate Ehi Google Alza il volume a 7 Ovviamente Ragazzi Dobbiamo saper parlare Al nostro assistente Come vedete Ha interpretato subito Senza dire oltretutto Volume 7 Volume 6 Lo fa e basta Piccola frecciatina Ad Alexa In più Qua abbiamo Il richiamo Alle nostre sveglie Come potete vedere Le posso anche aggiungere E la piena gestione Anche del dispositivo Da Google Home Che poi Magari vi faccio anche Vedere Velocemente Che comunque Sostanzialmente Ci sono le impostazioni Che abbiamo qua Con qualcosina in più Per l'associazione Eccetera Qui le informazioni Del dispositivo Di base Parte con La voce maschile Che possiamo Reimpostare Poi aggiornando Si va Con la voce femminile Informazione del dispositivo Bluetooth Per accoppiare Delle cuffiette Per esempio E sentire la musica Anziché Dall'ottoparlante Da lui Usare Il display Come un altoparlante Bluetooth Come vi dicevo Molto comodo Perché comunque È una gran bella cassa Poi vi farò sentire I temi Del display Automatico Oppure chiaro O scuro Io lascio automatico Perché di sera È carino Che diventi scuro Come vedete È molto più leggibile Secondo me Motion sense Poi abbiamo Il monitoraggio Del sonno Che io Non uso Perché Materialmente Non ci vedo L'utilità Però C'è E i gesti Rapidi Quindi possiamo Impostare Delle gesture Come vedete Richiama A Google Home Poi Vabbè Le chiare Differenze Con Alexa Stanno nel fatto Che questo Si appoggia A Google Abbiamo YouTube Music La possibilità Di interfacciarci Con Un sacco Di dispositivi Per esempio Una lampadina Della TAPO Trovate tutto In descrizione Da Google Home Selezionate il dispositivo E lui tranquillamente Si connette Una nota a favore Quando va via la corrente Si ricollega Subito Rispetto a Alexa Che tardava Comunque A ricollegarsi Adesso va detto Per esperienza Personale Sì Vi posso dire Che comunque Alexa Ha molte più difficoltà Nella riconnessione Esatto Riattivarsi Dopo un blackout Una perdita di connessione E poi niente ragazzi Qua vedete I vari menu Il tuo pomeriggio Fammi ascoltare dei suoni Il meteo Con La possibilità Appunto Adesso a Palermo Ci sono 17 gradi E cielo sereno Oggi ci saranno Rovesci sparsi Con una massima Di 19 gradi E una minima Di 13 E poi come vedete Io continuo a odiarti Perché fa freddissimo E poi qua Come vedete Abbiamo anche La possibilità Di anziché parlare Selezionare Appunto E domani E il resto Con un gesto così Torniamo sempre Indietro E poi qua abbiamo I vari controlli Appunto Eventuali appuntamenti Ci sono le routine Da gestire Dicendo buongiorno Puoi programmare Che ti dice C'è il meteo E poi via via Le notizie Dalle varie radio Di informazioni Io lo uso Spesso Contenuti multimediali Che ora andiamo a vedere Nella fattispecie Però andiamo a vedere Dal computer Quindi mi sposto Nuovamente qui Ok E vi faccio vedere Che mando in riproduzione Questo brano Però lo faccio da qui Riproduci sulla tv Camera da letto Lui già Sta acquisendo il tutto Un salutone a Marco Valleggi Che è inquadrato In questo momento E linea permettendo Partirà la riproduzione Sul nostro nest Ovviamente linea permettendo Ragazzi Poi praticamente Lo potremo gestire Da qui Tranquillamente Linea permettendo Ok Ho fatto play E praticamente Posso dire pure Hey Google Stop Ok E come vedete Ha stoppato La riproduzione Posso anche condividere Lo schermo Dal computer Per esempio Passare La finestra Di Google Chrome A lui E anche Usarlo come Chromecast Da un dispositivo Mobile Quindi dal cellulare Possiamo condividere Il tutto Poi vabbè Le altre impostazioni Ragazzi Ci sono le impostazioni Per cambiare L'orologio Possiamo fare anche Le videochiamate Perché ha Praticamente La webcam Come vedete Fai una videochiamata Possiamo sfruttare Questa funzionalità Attraverso Google Meet Effettuerà una telefonata Con il nostro account Benessere appunto Il monitoraggio Del sonno E da qua dietro Abbiamo anche La gestione Del mutuo Il microfono È disattivato Ok Come vedete Si accende anche Il led davanti Posso riattivare Come audio Ragazzi Questa è una bella Una bella funzionalità È una bella funzionalità Il Google Mini Che ho comunque Sia piccolina Comunque c'è la possibilità Di disattivare Il microfono Proprio per una questione Anche di privacy Si di privacy O comunque Vuoi evitare Che si attivi In modo casuale Anche se vi devo dire Rispetto ad Alexa Impostato Con sensibilità Comunque media È difficile Che si attivi Da solo Devi dire proprio Ehi Google Che tempo fa A Parma È lui In questo momento A Parma Ci sono 5 gradi E nebbia Ok Oggi ci sarà nebbia Con una massima Di 7 gradi E una minima Di 1 Rimettiamo a fuoco La telecamera Grazie Ok E praticamente Ragazzi Abbiamo Il tutto Dispositivo carino Anche da Avere in casa Perché comunque Ha un bel design È molto pratico Perché lo potete orientare E di notte Si regola Rendendo visibile Comunque l'ora E praticamente Non vi dà fastidio Io pensavo Che fosse un faro Nella notte Ma in realtà No Perché comunque Con il display Che si adatta in automatico Alla luce della stanza Non vi dà fastidio In più Potete anche Decidere di spegnere Il display In condizione di stanza Praticamente Al buio In confezione Trovate Semplicemente Lui L'alimentatore È un foglietto Che vi dice Di scaricare Google Home In più YouTube Music È incluso Quindi non dovete Pagare Alcun abbonamento Potete usare Anche Spotify Nella versione Gratuita Ovviamente Sentirete Le pubblicità Puoi usarci Netflix Brevi abbonamento E poi cos'altro Ragazzi Ah Altri servizi Che potete utilizzare Su di lui Abbinabili Sempre però A pagamento Per il resto Penso che Specialmente a 50 euro Resti veramente Un ottimo Tu l'hai preso Mi dicevi In un momento in cui Io l'ho preso Da 1 euro Sì sì 1 euro In offerta Che adesso Quanto è il prezzo Allora Google Attualmente Lo vende 80 euro Di norma Costerebbe 100 Senza spese di spedizione Però Si è girato un po' Da Mediaboard 1 euro Euro Onyx Vi sto dicendo tutti Così non facciamo pubblicità Penso che L'ho riuscita a trovare Sotto gli 80 euro Perché comunque La cifra direi che è buona Guarda Per 50 euro Hai un display Comunque Interattivo Con la possibilità Di chiedergli anche Ricette Per esempio Hey Google Dammi la ricetta Del risotto alla Milanese Ok Ecco alcune ricette Ecco Vi da i risultati La cosa carina è Potete selezionare Una ricetta E vi da Praticamente Tutto lo schema Inizia a cucinare Vi darai Step Aggiungi al ricettario E poi abbiamo Praticamente Tutto qua Cioè questo in cucina È favoloso Perché tutto Lo metti davanti E anziché avere Il libro Cioè tutti i passaggi Ingredienti Sempre ben visibili E tutto Veramente carino Poi devo dire che Capisce meglio Rispetto ad Alexa Non lo so Ultimamente Alexa Anche il buon Giorgio Mi diceva È un po' sordo Sì ma Sembra che stiano Depotenziando Gli assistenti vocali Che già Quelli tradizionali Che già non erano Così Performanti Forse in attesa Appunto di Andarli a sostituire Con Quelli di nuova Generazione Quindi Vari Chap GPT Bard E non so Onestamente Che cosa Abbiano in serbo Apple E Amazon Non lo so Però Amazon Ultimamente Un po' Deludente Vero è che Io dispongo Dell'eco Normale Non è un eco show Ma non credo Cambi niente Da un punto di vista Di assistenza Perché comunque Si collega A un server E quindi Diciamo che Le risposte Sono pressoché Di Amazon L'unica cosa Che ti posso dire Valido E mi sembra Una buona gestione Continua ad esserci Una buona gestione Della Della domotica Quindi tutti gli accessori Anche se Ho da ridire Perché per esempio Io con La lampadina Questa della TAPO Che gestisco Dall'app proprietaria Su Alexa Ogni qualvolta Andava via la luce O comunque Si spegneva Il dispositivo Ritardava A ritrovarlo Dovevo Riassociarlo Nell'app TAPO E poi finalmente Alexa lo rivedeva Mentre che qui Quando va via la luce Praticamente Lui si ricorda I dispositivi Che ha associato Aspetti Che si riconnetta E dici Spegni la luce E lui fa Su quello è vero Quello è vero Ad esempio Abbiamo cambiato da poco Qui in casa Le lampadine Della cucina Mettendole ovviamente Quelle Intelligenti Smart E Ogni volta Che c'è Per un motivo Per un altro Una disconnessione Sono le uniche Che non si sa Come mai Nonostante Si sia settato Il profilo Di rimanere Spente Anche dopo La riconnessione Continuano ad accendersi E poi qua per esempio Hey Google Spegni la luce Vi da a schermo Vi da a schermo La gestione Della luce Cioè io qua posso Riaccenderla Scegliere L'intensità Cambiare il colore Da qui E i controlli Ovviamente Su un eco show Sicuramente Questo ci sarà Però comunque È molto più pratico Anziché dire Mettila al 20% Mettila Che so io Da qui Con un tocco Puoi spegnere Senza stare lì A dover Impazzire Due modi Di vedere Diversi Però Devo dire Gran bel prodotto Per il costo Comunque Di 50 euro Penso che sia Veramente Un best buy Vi lascio Il link Qui sotto In descrizione Per acquistarlo Eventualmente Da Google Perché Google Vende o dal suo sito O attraverso appunto I rivenditori terzi Quali un euro Non lo trovate Su Amazon Molto molto difficile Anzi Diffidate Se li vedete Su Amazon Perché Quasi sempre Sono delle fregature E nulla Io ringrazio Il signor Giorgio Che ho fatto parlare Pochissimo Mi vergogno Di me stesso Ma no Perché io Comunque sia Ti stavo seguendo Anche perché Sempre Parte un piacere Ma era interessante Il discorso Di vedere Comunque Un oggettino Che Ma quella cifra Secondo me Merita Di essere acquistata Soprattutto se in casa Non si dispone Di Un virgolette Assistente O comunque Un gestore Della domotica Questo è molto bello Proprio per lo schermo Che è un plus in più Così come le casse Perché Possono diventare Il sostituto Di un Vecchio 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 Riproduttore Mettiamola così Sì Ho pure in testa La foto di Valleggi Che cerca Di sistemare Un vecchio Apparecchio Mettiamola così Eh vabbè Diciamo che Ragazzi Ripeto Alla cifra Di 50 euro Ma anche a 80 Li vale Perché diventa Anche un po' Un terzo schermo Perché puoi Mettere in riproduzione Un video Mentre che fai altro Magari stai editando Ti metti La musica di sottofondo Perché lui ti riproduce Anche I video musicali Puoi vederti Comunque una serie Su Netflix Gli usi sono veramente Molteplici E ripeto È un ottimo prodotto Secondo me Questa cifra Merita Assolutamente E quindi nulla ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto Anche questo video Grazie Per i 6.000 iscritti Non mi ricordo mai Se vi ho ringraziato o no Comunque Grazie Per questo traguardo Stiamo salendo Perché già siamo A 6.010 Insomma Andiamo salendo Sempre di più Io vi ricordo Tutti i link In descrizione Della mia attrezzatura Di tutto quello che serve Trovate sempre Qui sotto Il tutto Non vi ricordo Di iscrivervi E di attivare la campanella Perché vi lascio Liberi Sono bravo E buono Non mi dovete dire grazie E nulla Grazie ancora Al signor Giorgio E noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Sous-titrage ST' 501